Buongiorno a tutti, oggi preparo un dolce con gli agrumi. Mi occorre 3 uova, 160 g di zucchero, 80 g di burro, una bustina di lievito per dolci, 160 g di farina doppio zero, 60 g di amido di mais, un pizzico di sale, 60 g di latte, 2 mandarini e un arancio. Inizio la preparazione. Inizio con montare le uova con lo zucchero. Montate le uova, grattugio la buccia del mandarino. Allo stesso modo faccio quello dell'arancia. E li spremo. Aggiungo al composto. Aggiungo il latte. Setaccio le farine. Setaccio anche il lievito. A questo punto metto anche il burro, precedentemente ammorbidito, a temperatura ambiente. Poco alla volta aggiungo la farina. Metti il pizzico di sale e aggiungo tutta la farina. Una volta pronto lo metto in uno stampo di 28 cm per 10. Lo vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 35 minuti. Una volta cotto, metto un po' di zucchero a velo sopra. Ora lo taglio. Guardate che soffice e buono. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.